Con lo specchietto retrovisore destro durante il sorpasso urta il manubrio della bicicletta provocando la caduta del suo conducente un 51enne residente in provincia poi travolto da un'altra bici condotta dall'amico 41enne che seguiva in scia. Protagonista dell'incidente avvenuto domenica a Nuova Olonio di Dubino sulla strada provinciale valeriana un 63enne valtellinese il quale incurante dell'accaduto si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso alle due persone ferite. Gli uomini della polizia stradale del distaccamento di mese giunti sul posto hanno subito diramato le ricerche del veicolo fuggiasco dopo un attento esame dei frammenti rinvenuti sul luogo del sinistro e grazie ad una ricerca minuziosa ieri gli agenti sono risaliti all'auto pirata e alla persona che quel giorno era alla guida. Il veicolo una Fiat Panda è stato sottoposto a sequestro l'automobilista denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria per fuga a seguito di incidente con danni a persone e omissione di soccorso. Grazie. 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 Grazie.